Ciao ragazzi, io sono Dani e benvenuti nel mio cazzo di canale E' un nuovo video di Country Don'ts, Ramsey Andiamo subito a vedere che cazzo fanno, raga Yeah I bling bling dorati Quella è una mucca Orologi, Rolex, diamantati, Rolls Royce, Panty, figa E poi c'è una mucca Che non si spiega, raga Wow Adesso si spiega, raga Raga, ma chi cazzo fa Cioè, ma chi cazzo fa un video con una Rolls Royce In mezzo a delle mucche Cioè, è la prima volta che vedo una cosa del genere Porniamo indietro Pausa, pausa Vado a prendere le sigarette Una mucca in mezzo a delle Rolls Royce, raga Questo non è per niente normale In cucina a cucinare, però Ho perso il mio Ramsey Non sono Gordon Sono così profondo nella tua cambia Nooo Non posso litigare con te Sennò ti sentiresti importante Tu sei un piccolo negro La spia La spia Dice Mi ama perché sono corretto Adesso, cosa l'intende non lo so Però Ami Cali Big boxes No look on my baggies And my CDs Them too scatty Ami Cali Grandi scatole Non un borso da cuo La sto fottendo così A fondo Dice che potrei solo Cioè potrei mettere le palle dentro A sto punto Mettile Non lo so cosa devo dirti Mettidere sti cazzo di pound Mettigliele dentro Fottigli la FIFA Allora boh Mh 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 Hai scelto l'uomo sbagliato Non vorresti vedere uno di noi Che entra nella tua parte Non ho termi solo perché sto facendo così bene Dice il raga Il man ha una pompa così Come posso dire Ha così tanto una pompa Dice che sembra che lavora per gli shell La mia famiglia è la prima questo è Jill questo è Jill UK qua lo fanno a manetta tutti i ragazzi non fanno drop shit o rap ce lo fanno ma di meno fanno Jill a manetta srizzano wow wow ragazzi allora mi dico l'America come avete visto anche dalle altre reaction mie probabilmente mi avete conosco un minimo io guardo anche il video raga perché mi ho guardato anche il video perché secondo me se uno fa la canzone adesso questo sembrerà un po' una cazzata ma non è così se qualcuno fa la canzone ovviamente deve avere contenuto no? o perlomeno la canzone deve spaccare che a volte le canzone spaccano anche senza che hanno contenuto ma il video non dico che cioè il 30% è video raga perché se fai il video ti impegni a fare il video vuol dire che conta anche quello ovviamente se tu senti la canzone senza video è un discorso però se la guardi col video c'è il tipo con Rodas Royce che va in giro in mezzo alle mucche raga non succede sempre non lo fanno tutti secondo me hanno spaccato di brutto hanno spaccato di brutto secondo me anche in Italia dovrebbero cominciare a fare questo tipo di musica e niente quindi approvato raga fate subscribe al canale commentate se avete domande potete contattarmi su Instagram attivate le notifiche se vi è piaciuto il video mettete mi piace e noi ci vediamo alla prossima grazie a tutti